Musica Emergono nuovi particolari dalle scene raccrapicciante che mercoledì sera, attorno alle 19, ha visto protagonisti in corso del popolo i pregiudicati Massimo Dario e Otello Cavallerin. Dalle iniziali ricostruzioni si è trattato di un vero e proprio agguato a freddo del primo verso il secondo. Cavallerin stava infatti parlando con un commerciante del centro quando Dario lo ha visto, è sceso dalla bicicletta e gli ha sferrato un diretto secco in pieno volto, fratturandogli la mandibola. L'energumeno, che ha approfittato anche della sua stazza corpulenta, ha anche inveito minacce contro Alessandro Boscolo Sesillo, che lo scorso 23 ottobre lo aveva coltellato sotto i portici in compagnia proprio di Cavallerin. Quando esce di galera lo ammazzo, queste sarebbero state le parole urlate dal 51enne, subito dopo il pugno. Otello Cavallerin è stato accompagnato dal pronto soccorso di Chioggia da un conoscente e l'indomani, cioè ieri mattina, si è dovuto recare l'ospedale di Treviso per la riduzione della frattura con una prognosi di 30 giorni. Ieri pomeriggio intanto Cavallerin ha presentato formale denuncia di aggressione alla caserma dei carabinieri di Sottomarina. Ammontano a 1.800.000 euro le contravvenzioni dell'articolo 208 del Codice della Strada che il Comune di Chioggia prevede di incassare nel corso dell'anno 2019. Lo ha deliberato la Giunta lo scorso 6 febbraio, rivedendo così a ribasso la propria valutazione del 10 gennaio scorso, che prevedeva un'entrata di 2.200.000 euro al termine dell'esercizio. Quanto alla destinazione degli introiti, un minimo del 25% di tale quota andrà a interventi di sostituzione e potenziamento dei segnali stradali, un altro 25% all'acquisto di automezzi e attrezzature, il rimanente 50% alla manutenzione delle strade di proprietà comunale, alla redazione del piano urbano del traffico, a interventi di sicurezza nei confronti di utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Tale somma di 1.800.000 euro non comprende le violazioni dei limiti di velocità che ricadono sotto la fattispecie dell'articolo 142 del Codice della Strada stesso. Queste violazioni, rilevate con l'ausilio di strumenti elettronici a distanza, destinano i proventi al 50% all'ente proprietario della strada sulla quale sono state commesse le infrazioni. Primo passo ufficiale per il futuro trasferimento del commissariato di pubblica sicurezza nella cittadella della giustizia all'ex macello comunale. La Giunta infatti ha deliberato con atto di indirizzo di procedere alla permuta con l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'Interno, destinata ad attribuire loro il complesso dei beni immobili in questione, in cambio dell'annullamento della decurtazione dei minori trasferimenti erariali da parte dello Stato al Comune di Chioggia, avvenuti a seguito del federalismo demaniale. L'amministrazione comunale avrebbe allo stesso tempo un introito consistente nelle locazioni attive sui beni oggetto di trasferimento in proprietà. Rispetto a una precedente risoluzione del novembre 2017 che postulava l'utilizzo degli stabili quale sede dei servizi demografici del Comune, è evidente che il loro passaggio nella disponibilità del Demanio e del Ministero dell'Interno segna la chiara volontà di destinare la cittadella della giustizia, attualmente occupata dalla sola attività del giudice di pace, a nuovo comando della Polizia di Stato di Chioggia. Prendono forma le dighe soffolte in continuazione davanti al litorale di Isola Verde, oggetto negli ultimi giorni di polemica tra i vongolari di mare del Cogevo e i concessionari balneari di Ascot. L'opera è propedeutica all'eventuale ripascimento futuro, al fine di preservarlo e di ottimizzarlo. I lavori sono eseguiti dall'azienda Stone, con sede in via maestri del lavoro a Chioggia, e la loro fine è prevista per la fine di aprile, ovvero in tempo per l'avvio della stagione turistica estiva e la soddisfazione degli operatori del settore, anche se esiste un'area dovuta alle condizioni meteomarine. Al microfono di Chioggia Azzurra, l'ingegner Federico di Sarò della Stone ha confermato che le dighe in costruzione resteranno a periodo d'acqua, ovvero a una profondità di 0 cm, e in estate sui 7 pennelli esistenti. Presentano una forma biforcuta Y per favorire il mantenimento delle sabbie e il futuro ripascimento, uscendo verso il mare per circa 65 metri e con una larghezza di 110. Si intitola Art Drop la mostra fotografica di Gianluca Sambo, che inaugura questa sera dalle ore 19 all'Osteria e Coppi in Cale Palazzo a Chioggia. L'artista Chioggiotto espone immagini relativi all'acqua e all'effetto goccia che provoca l'impatto di corpi immersi. Nel 2010 Sambo fu ispirato dal programma TV Slow Motion, durante il quale si vedevano truffatori al rallentatore che all'impatto con l'acqua creavano piacevoli figure. Quelle immagini hanno suscitato l'idea di bloccare fotograficamente situazioni invisibili ad occhio nudo. Sono iniziati così piccoli esperimenti nel lavandino di casa, per poi passare a strumenti più elaborati di natura artigianale, flebos pedalieri, pistole ad acqua, contagocce, bottiglie di varie misure e contenitori. Con l'introduzione di software e l'impiego di coloranti e flash Gianluca Sambo è riuscito a trasformare gocce d'acqua in forme impensabili, senza ovviamente alcun ritocco. Il fotografo clodiense ha ottenuto numerosi premi nella sua carriera, tra cui prix della fotografia IPX3 a Parigi, medaglia d'oro nella categoria natura, convenzione speciale della giuria tecnica e una mostra nel centro della capitale francese. Lo stesso all'International Photography Awards di New York e in altre città di tutto il mondo. La mostra Art Drop rimarrà visitabile ai coppi fino al prossimo 15 marzo. Amici carissimi di Nato Cazzurra e dagli ombrelli volanti, una buona giornata a tutti. Dunque, questo blocco anticiclonico di matrice subsahariana ormai si è impossessato letteralmente di tutta l'Europa occidentale, dell'Europa sedentionale e di buona parte del territorio nazionale, a parte le estreme regioni meridionali italiane che avranno lambite oggi da un'ulteriore saccatura che apporterà una fase di pioggia giusto oggi. Ma niente da fare, un blocco anticiclonico di matrice subsahariana che intende spingersi ben oltre anche il fine settimana e credo che almeno proseguirà per i prossimi 7-8 giorni. Una situazione quindi anomala, fortemente anomala, che corrisponde anche a termiche molto elevate, laddove appunto le condizioni lo consentono. Quindi parlo anche delle alti, delle prealpie e delle fasi, diciamo, pianizzanti naturalmente esposte. Incognita saranno le nebbie che nei prossimi giorni, visto l'aumento nei bassi strati dell'umidità, saranno protagoniste anche sulle nostre zone. Nebbie che si propagheranno probabilmente per buona parte della notte, sin sulle prime ore della mattinata e poi alcuni banchi di nebbia, specie nel fine settimana, potranno resistere anche durante la fase diurma. Staremo a vedere cosa succederà. Quindi quello che naturalmente vi posso dire è che saranno sempre giornate pulite, a parte qualche nuvolaglia in transito di medie dimensioni, ovviamente zero precipitazioni, umidità che si farà naturalmente sentire e anche correnti mediamente diciamo occidentali durante tutto l'arco della giornata. Questo ne consegue comunque anche spazi soleggiati sì, ma temperature notturne che andranno ben sotto zero ovviamente nelle zone di aperta campagna, un pochino meno da noi e temperature diurne che in assenza di nebbie ovviamente guadagneranno gli 10-11 gradi, ma con le nebbie naturalmente si abbasseranno. Quindi una situazione di blocco non proprio positiva perché a parte le nebbie anche gli inquinanti nei territori padani appunto ci faranno sentire con i PM10 che cominceranno a spingere sopra i livelli diciamo tollerati. Quindi stariamo a vedere ma sicuramente per i vostri decisorni nulla cambia e con questo vi saluto. Ciao a tutti!